Top 16, week 3, Peace and Friendship Stadium, Olimpia Koss Anadolu Efes. I turcici tornarono alla fine del terzo periodo, ma l'Olimpia Koss ha avuto un quarto quarto. I ragazzi hanno avuto 25 minuti per i primi 5 minuti e 14 secondi per ottenere una lead di 15 punti. E hanno avuto un'eccellente performance di scuola, con 6-4-6 dietro nei primi 7 minuti. Due per Spanulis e Zicevicius, Zlukas e Antic, tutti con uno, l'Olimpia Koss Anadolu ha avuto 30 punti nel terzo periodo per ottenere il primo top 16. E' per questo il nostro 19 notable.